Cristian Salvadori, come ti stai muovendo sul mercato per allestire questa rosa per il campionato di promozione? Diciamo che per il 95% la squadra già ha mancettato. Siamo alla ricerca della prima punta, abbiamo fatto vari sondaggi e stiamo aspettando di bagliare la situazione migliore. Questa punta potrebbe arrivare anche da fuori Arezzo? Ho dei contatti molto stretti con un paio di giocatori di categoria superiore che vengono da fuori regione. Per quanto riguarda ovviamente la squadra sarà il completo quando partirà per il ritiro di Mogiono magari ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa stata facendo? Penso che dovremmo attendere qualche sorpresa che non facendo perché non è semplice in questo momento di crisi accontentare certe richieste ma i giocatori che attualmente sono arrivati.